Buongiorno da Yoga Festival. Cominciamo una nuova serie di chiacchierate con gli insegnanti che più hanno catturato la nostra attenzione per il lavoro che hanno fatto con lo yoga. È una serie di incontri che abbiamo già iniziato tra marzo e maggio del 2020 in pieno lockdown e continuiamo quest'anno con un'altra serie di ospiti che presentiamo apposta per noi. L'ospite di questo primo incontro è un'insegnante di cui tengo in maniera particolare e poi vi spiego il perché e si chiama Anastasia Bernardi che già vedo collegata. Eccoci qua. Buongiorno Anastasia. Ciao Giulia, buongiorno, namaskara. Benvenuta, namaskara a te. Anastasia Bernardi è un'insegnante italiana di yoga che vive in Australia da 20 anni. Personalmente sono molto felice di averla qui, averti qui per questa chiacchierata perché Anastasia è stata anche la mia prima insegnante di yoga diciamo costante quasi 30 anni fa e lo sapete la prima insegnante non si scorda mai. Il tuo percorso di ricerca interiore è cominciato abbastanza presto. Hai praticato karate che eri una ragazza per 7 anni poi hai mollato e hai trovato lo yoga. Com'è successo questo passaggio? Grazie ad una slogatura al polso sinistro sostanzialmente ho dovuto smettere la mia pratica di karate e trovare un diversivo o qualcosa di diverso. Mi sono trovata fra le mani questo libro di Andrea Vanlisabeth, Imparo lo Yoga, che mi ha aperto davvero le porte ad un mondo nuovo. È stato un incontro importante anche se appunto cominciato come autodidatta. Vanlisabeth mi ha introdotto a quello che poi è diventato effettivamente il mio cammino nella vita ovvero sia il cammino dello yoga, il mio dharma. È curioso questo fatto che tu abbia iniziato da un libro perché anche un altro insegnante a noi molto caro Antonio Nuzzo ha proprio avuto lo stesso percorso. Ha trovato un libro di yoga, lo racconta anche nel suo libro, nel libro di Antonio Nuzzo che si chiama I doni dello yoga, racconta questa esperienza che un suo compagno di, un suo amico, un suo compagno di scuola, gli ha regalato, gli ha prestato il libro di Andrea Vanlisabeth e da lì è iniziato. Quindi diciamo un maestro che traspare anche dalla carta stampata. Com'è stato l'incontro con lo yoga di Vanlisabeth anche se sulla carta? Dicevo appunto è stata l'apertura di una porta in un mondo nuovo. Poi da Vanlisabeth ovviamente la mia ricerca è cominciata e ho cercato una scuola a Milano, ho incontrato l'insegnamento di Satyananda Sarasvati, dopo pochi mesi sono andata in India dove ho studiato all'ashram di Sivananda, a Rishikesh, nello Sivananda Ashram, quindi un'impronta molto classica. Sivananda era un medico e quindi un approccio allo yoga anche diciamo da un punto di vista fisiologico interessante per me con una mentalità occidentale e quindi un linguaggio abbastanza comprensibile da quel punto di vista. Però rispetto alla pratica in sé, per esempio della sessione di Hatay al mattino, mi sono ritrovata a cercare altri insegnamenti anche se ero lì nell'ashram di Sivananda. Ho incontrato un maestro che insegnava il metodo Ayengar che mi aveva affascinato perché all'epoca io ero veramente molto intrigata dal movimento fisico, dalle posizioni, dal lavoro forte, cosa che poi è continuata nel tempo. Infatti poi ho anche studiato con Fatabi Joyce a Mysore, dove ho appunto fatto questa esperienza forte con questi due maestri Ayengar e Fatabi Joyce che hanno il contatto, che vengono entrambe da Krishna Machari, il grande maestro del suo. Però dopo questo lavoro, questo approccio che comunque è stato importante, che mi ha dato un nutrimento, un nutrimento esperienziale, nel senso che il mio corpo è entrato a fare esperienza di dimensioni posturali e quindi fisiologiche molto nuove, molto diverse, rivoluzionarie. Quindi lì è stata proprio una, diciamo, una rivoluzione. Sì, allora aggiungiamo questo pezzettino. Il maestro però fondamentale che davvero mi ha formato è stato su Amikita Nandadi, all'Ananda Ashram di Condice e Rimita Minato. Ci sono arrivata, ci sono rimasta quasi un anno e lì veramente c'è stata una trasformazione. Addirittura il mio, le mie mestruazioni si sono fermate per tre mesi, per dirti. Quanto importante, quanto è stato forte l'impatto. Quindi, tornando poi, la tua domanda è come ti sei sentita dopo l'esperienza di Ashram. E l'Ashram vuol dire fare un po' la vita da sua ora, sostanzialmente. E la vita cominciava alle quattro e mezzo del mattino, con una bella doccia, la pratica, i rituali e tutta la giornata così. Potrei utilizzare già la parola di neuroplasticità. Perché che cosa è successo? Qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato proprio nel mio modo di pensare, nel mio modo di vedere. Dunque, connessioni neuronali nuove. Perché? Perché sono stata esposta, in modo continuativo, ad una pratica. Che è una pratica complessa quello della yoga. Perché quando parliamo di yoga sappiamo che parliamo di un cammino del quarto sistema filosofico indiano. E quindi abbraccia tutta una serie di insegnamenti che non possono essere ridotti ad una sola tradizione. Quindi abbracciano tantissime cose e con questa dimensione me la sono portata a casa. Quindi quando sono tornata in Italia, dopo questo periodo in Ashram, mi sentivo un po' un pesce fu d'acqua. C'è molto questa sensazione di impurezza, cioè essere impuri. Il modo di mangiare, il modo di vestirsi, il modo di camminare, il modo di stare proprio, mi rivelavano una dimensione da cui mi ero stancata. E quindi mi ha messo di fronte al mio cambiamento. Ma a un certo punto sei di nuovo ripartita. E questa volta per l'Australia, dove tuttora vivi. Sembrava che tu partissi per pochi mesi e invece sei rimasta vent'anni. Come è andato? Come ti sei costruita un'identità in Australia? E soprattutto la pratica... dove l'hai messa? Come l'hai inserita nel tuo trasferimento? Allora, c'è forse da dire che il mio primo contatto con l'Australia è avvenuto nel 1993. Quando Swami Gitananda Giri, a Pondicherry, ha organizzato la conferenza internazionale, che sono stata la prima conferenza internazionale di yoga, dove incontrai anche Ananda Kapila, il mio attuale mentore, John Mumford. E lì una serie di vecchi studenti di Swami Giri, di Swami Kitananda vennero alla conferenza e uno di questi mi invitò ad insegnare un intensivo di tre mesi a Sidney. Questo è nel 1993. Io andai, insegnai, feci tante altre cose, incontrai addirittura Diane Cilento, l'ex moglie di Sean Connery, che mi invitò nella sua bellissima tenuta a Karnak, in Fano, Queensland, dove insegnai tecniche di purificazione, come la Shankar Axalana. Rimasi per qualche mese, feci un incontro anche lì molto interessante con l'insegnamento di Gurdjieff. Infatti la proprietà della Diane Cilento era chiamata proprio Karnak perché proponeva l'insegnamento di Gurdjieff con i movimenti sacri, le danze sacre e molti contenuti legati alla dimensione della meditazione. Quindi il lavoro che io facevo con la Diana riguardava più l'aspetto fisico, quando lei lavorava tanto su quello che era invece l'aspetto mentale, quindi di Diana, da Rana. Quell'esperienza poi si è chiusa, dopo nove mesi sono tornata in Italia pensando non tornerò mai più in Australia perché non ne sentivo il cuore. E questa è rimasta una cosa un po' misteriosa per me perché dopo sette anni feci ritorno in Australia perché ero arrivata ad un big, dovevo decidere se andare in Brasile o in Australia, in Australia però c'era John Muffin e quindi decisi di tornare in Australia. Rimasi in Australia anche perché incontrai il papà di mia figlia e cominciai a fare un percorso anche accademico, feci un Master of Teaching alla Melbourne University perché il mio cammino effettivamente è anche legato soprattutto all'insegnamento, mio background in Italia praticamente all'interno della pedagogia e psicologia ho fatto una tesi comparativa tra i metodi appunto dello yoga dell'est e i nostri metodi tradizionali di insegnamento. Dunque questo è il mio interesse per l'insegnamento si è poi tradotto anche in un approfondimento in Australia. E quindi sono entrata nel mondo, nella vita australiana con molta tranquillità, parlavo già inglese ed è stato lì che poi ho cominciato anche a fare il mio training come operatore di Feldenkrais. Ecco giusto, arriviamo un po' alla tematica che volevo toccare con te. In Australia tu hai incontrato il Feldenkrais ma hai anche messo appunto un connubio particolare tra yoga e Feldenkrais. Intanto ti chiedo due parole per chi non conosce il Feldenkrais se puoi inquadrarlo e anche come lo avvicini allo yoga. Allora, il Feldenkrais detto in una frase è un processo educativo, un processo di apprendimento. Infatti le persone che praticano Feldenkrais sono studenti, sono considerati studenti che utilizzano il movimento per migliorare le capacità psicomotorie. Quindi il movimento più l'attenzione diventa il modo principe per imparare. Perché insisto a ripetere questa parola imparare? Perché è proprio un apprendimento di se stessi. E avviene attraverso questi movimenti lenti che ti portano ad una osservazione molto dettagliata e molto particolare che però include anche la sensazione, quindi la dimensione cenestesica. Cosa vuol dire cenestesica? Cos'è il senso cenestesico? È la percezione del nostro movimento nel campo gravitazionale. Come lo percepiamo? Come lo sentiamo? Qual è la sensazione infatti? In tutto questo c'è il sentimento e c'è anche il pensiero. E quindi è quello che propone, che ha proposto Moschè Feldenkrais negli anni 50 è stato qualcosa di, anche lì, piuttosto rivoluzionario. Perché intanto è stato un precursore della neuroplasticità sottolineando il fatto che il nostro cervello effettivamente può cambiare. Poi hanno scoperto che i neuroni non muoiono e si riproducono e che anzi la plasticità del cervello, come oggi, è un tema così molto presente soprattutto all'interno della neurologia. E quindi il pregio, diciamo, la cosa più interessante per me rispetto al metodo Feldenkrais è proprio questo studio di se stessi. Ed è qui che trovo il collegamento con lo yoga. Perché che cos'è lo yoga se non è l'unione fra l'io esterno e quello interno? Fra il mio modo di percepire il mondo esterno e il mio modo di percepire il mondo interno? E come faccio a raggiungere questa unione? Allora, lo yoga ci dà molti strumenti che hanno subito, purtroppo, dico purtroppo da una parte però bene anche dall'altra, si sono così sbizzarriti nell'invenzione di molti nuovi metodi a cui hanno attaccato appunto la parola yoga e poi altre cose. E qui volevo chiarire anche questa cosa, il mio cammino è il cammino dello yoga e il Feldenkrais per me è uno strumento così come altri strumenti possono entrare in campo. Non so, i miei studi di psicologia, pedagogia sicuramente sono parte del mio modo di insegnare. Quindi il Feldenkrais si colloca all'interno dello yoga come uno strumento che mi permette di approfondire gli aspetti dello yoga, partendo quindi di Yama-Nyama che sono i dieci valori, chiamiamoli valori a cui noi facciamo riferimento che non dovremmo mai dimenticare anche se molto spesso le persone non sanno neanche che cosa siano. Quindi parliamo di restrizioni morali ed etiche sostanzialmente, ma anche di indicazioni di, non so, parliamo di saucia, pulizia, quindi facevo riferimento alle tecniche di pulizia, sono cose che dovrebbero entrare nella nostra vita quotidiana se pratichiamo yoga, se ci consideriamo praticanti di yoga. Altrimenti se andiamo a fare qualche posizione ogni tanto magari è più un atteggiamento di esperienza somatica che, perché no, va benissimo. Ed è questa la bellezza anche del Feldenkrais, perché il metodo Feldenkrais si pone l'obiettivo di facilitare la nostra vita, di darci più possibilità, di rendere le cose più semplici e meno nevrotiche. lavora tanto con il sistema nervoso e questo è un altro elemento fondamentale, perché l'equilibrio fra il sistema nervoso simpatico e parasimpatico vuol dire trovare una dimensione di armonia e direi anche di contentezza, tutto sommato, nella vita. Perché? Perché ci mette nella condizione di osservarci, perché ci mette nella condizione di poterci osservare e vivere in questo senso. Quindi non vittime di abitudini parassitarie, per esempio. Un movimento potrebbe essere, per esempio, acquisito perché abbiamo subito un trauma e quindi ci siamo fatti male ad una gamba e quindi carichiamo di più un'altra gamba. Rimane questa impronta di abitudine anche quando abbiamo risolto, per esempio, il problema dall'altra parte. Però rimane l'abitudine. Quindi sono abitudini parassitarie che vengono mascherate e attraverso l'osservazione e la presa di coscienza e quindi a che cosa acquisiamo? Un maggiore livello di libertà, perché a quel punto possiamo fare delle scelte, possiamo decidere di fare delle cose piuttosto che altre. Questo mi richiama, per esempio, ad uno dei testi più a me cari, che è quello di Mircia Eliade, lo yoga, immortalità e libertà, che sostanzialmente è questa, no? La cosa a cui tendiamo, aneliamo, l'essere libero. Credo parlare molto e tanto, eh. Diciamo che una frase di Fenden, di Fenden Christ Moshe, era quando sapete quello che fate, potete fare quello che volete, che ci racconta molto. Chi volesse saperne di più sul tuo lavoro, sulla pratica e anche magari seguirti, come ti contate? Hai una pagina di Facebook? Cosa consigli per chi ti vuole raggiungere? C'è una pagina di Facebook, anche se io consiglio sempre di guardarmi un'email, ed è semplicissimo perché la mia mail è il mio nome, Anastasia Bernardi, in una parola sola, con il numero 65, chiocciola gmail.com Allora, grazie mille Anastasia, speriamo di vederci ancora magari più in là nei mesi, e ti ringrazio… Grazie mille Anastasia. Ciao!